Musica Buonasera e bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Lunedì 10 agosto, sovraffollamento di cinghiali in Sicilia, la Giunta regionale delibera lo stato di emergenza. L'Aggiunta regionale delibera lo stato di emergenza per il sovraffollamento di cinghiali in Sicilia. Il caso dell'uccisione di Salvatore Rinaudo, aggredito da un cinghiale nei pressi della sua casa e le campagne di Cefalu, è arrivato nei palazzi della politica. Il presidente della Commissione Ambiente, Giampiero Trizzino, ha convocato oggi gli assessori al territorio, Maurizio Croce, all'agricoltura, Rosaria Barresi. È necessario esaminare urgentemente, ha spiegato Trizzino, quali norme sono indispensabili per regolamentare l'abbattimento selettivo dei suidi e dove invece si tratta solo di applicare leggi già varate. In Commissione ha ascoltato anche associazioni di ambientalisti e comitati di cittadini che hanno chiesto di essere sentiti. Sempre oggi sarà presentato all'Assemblea regionale un emendamento stralcio specifico che consente di accelerare l'iter per intervenire in tempi rapidi sul problema. La Procura di Termini Merese intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignote e ha già acquisito della documentazione per verificare eventuali responsabilità penali sulla morte di Salvatore Rinaudo. Ieri i funerali dell'uomo e con le ha partecipato anche la moglie è rimasta ferita nell'attacco del grosso animale. Depositate all'ARS 15.000 firme per la proposta di legge ed iniziativa popolare per l'integrazione al reddito delle famiglie in povertà assoluta. Per la prima volta una proposta di legge ed iniziativa popolare per l'integrazione al reddito delle famiglie in povertà assoluta viene presentata all'Assemblea regionale siciliana. L'iniziativa è di un cartello di associazioni di volontariato, sindacali e datoriali unite attorno a un testo legislativo. I faldoni con le oltre 15.000 firme raccolte in meno di due mesi sono stati consegnati stamattina all'assessorato regionale e alle autonomie locali. È stata superata la soglia minima prevista dalla legge, cioè 10.000 firme. A settembre la proposta sarà esaminata dall'ARS. Promotore è il comitato No Povertà, formato da uno schieramento di associazioni comprendenti anche il Centro Piola Torre, Anci Sicilia, CGL Cisle Will, Libera, Confindustria Sicilia, Caritas, Comunità di Sant'Egidio, Comitato Lotta per la Casa 12 Luglio e Terzo Settore. La proposta di legge in sostanza punta a sostenere le famiglie che spesso sono le prime e le sole a farsi carico delle situazioni di disagio. Il riferimento è la soglia di povertà assoluta, cioè la spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi considerati essenziali. Si punta pertanto a fornire alle famiglie povere la differenza tra l'insufficiente reddito di cui esse dispongono e la soglia di povertà assoluta. Auspichiamo, ha detto il Sindaco di Palermo e Presidente regionale dell'Anci, Leo Luca Orlando, che il Parlamento regionale vorrà esaminare questa significativa proposta di legge quanto prima, nella convinzione che il reddito minimo contro la povertà assoluta può essere una risposta di rivendicazione di autonomia e futuro per i tanti nostri corregionali in difficoltà. Una tre giorni a Casteldaccia dedicata ad Andrea Arrai ha ucciso 70 anni fa dalla mafia, l'occasione è servita anche per aprire un dibattito su come sia cambiata la criminalità organizzata in questi anni. Oggi si parla di antimafia in generale, nella tre giorni che stiamo affrontando si sono affrontati alcuni argomenti specifici, quindi si è parlato prima della storia e quindi si è affrontato la storia della mafia a Casteldaccia, dei paesi limitrofi, oggi invece parliamo di un argomento specifico e molto reale. Un argomento attuale. Un argomento attuale perché CoinRes è quel consorzio al quale abbiamo dovuto aderire perché commissariati, perché tutti i consigli comunali avevano votato contro e che ci siamo dovuti sobbarcare noi delle nuove amministrazioni, con tutti i debiti che ha. Casteldaccia considero che ha ereditato un 4 milioni e 900 mila euro di debiti nei confronti di CoinRes. Se voi pensate che ai tempi della lira il comune di Casteldaccia spendeva 900 milioni di lire l'anno per un servizio che era direi eccellente rispetto a quello che abbiamo adesso e adesso spendiamo circa 2 milioni di euro, ma perché abbiamo tagliato tutti gli sprechi che potevamo tagliare ora, con una riduzione che possiamo affermare rispetto all'anno scorso del 12% e per il 2016, quindi costi 2015, risparmieremo altri 100 mila euro. Però è sempre una cifra enorme rispetto al servizio che ricevevi. Noi in quei 2 milioni di euro, se li confrontiamo ai 900 milioni di vecchie lire, è un aumento del 400%. La gestione dei rifiuti, così come tutte le gestioni dei servizi essenziali, purtroppo in Sicilia è sempre stata legata alla criminalità organizzata. Lo dicono i rapporti della Corte dei Conti, lo dicono le indagini della Commissione d'inchiesta del Parlamento nazionale e lo dicono addirittura le ultime indagini della magistratura. Il dell'altro ieri è il sequestro di una discarica a Siracusa, nella quale si conferiva il polverino proveniente all'industria ILVA. Questo vi fa capire come oggi, sebbene comunque ci sono stati dei cambiamenti e delle rivoluzioni, ci sono delle rivoluzioni in atto, il sistema comunque si mantiene in parte inalterato. Ed è giusto, prima di costruire un sistema di rifiuti che sia efficace, smantellare quella connivenza. La scrittrice Flair Iaghi è la vincitrice della dodicesima edizione del premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la cerimonia di premiazione a Santa Margherita di Belice e tanti ospiti illustri. Anche quest'anno a Santa Margherita di Belice, terra del Gattopardo, in provincia di Agrigento, si è svolta la cerimonia di premiazione del premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Giunto alla sua dodicesima edizione, il premio ha lo scopo di cogliere nella produzione letteraria i temi della pace e soprattutto della convivenza dei popoli. La vincitrice Flair Iaghi, la scrittrice nata in Svizzera ma residente in Italia, si è giudicata il riconoscimento con l'opera dal titolo Sono il fratello di XX. È la terza donna nella storia del premio a salire sul parco del premio Tomasi, una serata piena di ospiti illustri a presiedere la giuria del premio. Gioacchino Lanza Tomasi, figlio dell'autore del Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sul palco in veste di presentatrice l'attrice e cantante Serena Utieri. L'attore Luigi Locascio ha letto alcuni frammenti tratti dal romanzo Il Gattopardo e infine il grande ospite della serata, il cantautore Franco Battiato, a cui la premiata è legata da una intensa e antica amicizia. La scrittrice infatti da sempre collabora con il maestro Catanese nell'assesura dei testi delle sue canzoni. Battiato ha eseguito alcuni tra i brani più noti del suo repertorio musicale in una piazza a Matteotti gremita. Martedì 11 agosto, in Sicilia l'acqua torna in mani pubbliche. L'Arsa ha approvato l'intero articolato della riforma. In Sicilia l'acqua torna in mani pubbliche. L'Assemblea regionale ha approvato l'intero articolato della riforma che prevede tante novità. Per quanto concerne la gestione, si tenderà adesso ad incentivare l'affidamento al gestore pubblico. Innanzitutto è la stessa assemblea del lato a scegliere il proprio modello gestionale ma comunque va individuata attraverso procedure di evidenza pubblica. In secondo luogo il ricorso a privati è possibile solo nel caso si dimostri più conveniente rispetto a quello pubblico. Scompaiono poi rispetto al passato le convenzioni pluridecennali. Ogni affidamento potrà durare per un periodo non superiore ai nove anni. In caso di interruzione del servizio per più di quattro giorni ad almeno il 2% del bacino, il gestore privato andrà incontro ad una maxisanzione compresa tra i 100 e i 300 mila euro per ogni giorno di interruzione e alla possibilità di risoluzione del contratto. Inoltre la riforma contiene alcune norme di solidarietà come la garanzia di un quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno per i cittadini morosi e un fondo di sostegno per il pagamento delle bollette delle famiglie meno abbienti. L'acqua che non potrà essere utilizzata per fini alimentari inoltre avrà una tariffa scontata del 50% come prevede un emendamento del governo Crocetta votato dall'Aula. Soddisfatto Antonello Cracolici, presidente del gruppo PD a Lars, obiettivo raggiunto, ha commentato la riforma dell'acqua pubblica era uno dei punti centrali del nostro programma di governo. Con questa legge ridisegniamo in maniera razionale l'assetto degli organi di gestione sul territorio e salvaguardiamo il personale. A 19 i deputati del Movimento 5 Stelle hanno iniziato a contare i giorni per la realizzazione della bretella e polemizzano con il governo Crocetta. Dei 90 giorni promessi ne hanno bruciato già tre, senza che sulla 19 si muova foglia o quasi. Se si eccettuano due operai intenti a prendere qualche misura, a onor del vero ci sembra troppo poco per portare a compimento la bretella che il governo ha assicurato di completare entro tre mesi. Noi contiamo i giorni. Il Movimento 5 Stelle alla Lars è tornato sulla questione autostrada. Crocetta, dicono i deputati, in conferenza stampa venerdì scorso ha annunciato che quella stessa giornata partiva il contiere. Peccato che, come sempre accade con questo disastrato governo, fatti e parole viaggino in direzione diametralmente opposte. Intanto sono circa 50.000 le auto che hanno percorso via dell'onestà la trazzera finanziata al Movimento 5 Stelle per bypassare l'interruzione dell'A19. Si tratta di stime attendibili, dicono i parlamentari del Movimento 5 Stelle che ci ha fornito il sindaco di Caltavuturo. A dispetto di tutte le cassandre, la strada ha retto benissimo l'impatto del sostenuto traffico vacanziero e con commenti più che lusinghieri di coloro che l'hanno sperimentata. È più che evidente che le critiche che sono arrivate al governo dalla maggioranza erano mosse da invidia o stizza, come del resto dimostra il fatto che la trazzera venga percorsa costantemente dalle auto blu e il fatto che la strada volesse realizzarla proprio l'assessorato diretto da Pizzo da colui cioè che più ferocemente l'ha criticata dipingendola come pericolosissima. C'è una lettera, concludono i grillini, che lo prova. Scandalo Catania Calcio, stadio interdetto per 5 anni a Pulvirenti ai vertici della società sportiva anche da semplici spettatori. Non potranno più recarsi allo stadio anche da semplici spettatori per ben 5 anni. Questa è la nuova misura cautelare imposta dal questore di Catania all'ex presidente del Catania Calcio Antonino Pulvirenti e all'ex amministratore delegato Pablo Cosentino nell'ambito dell'inchiesta sulle partite comprate dal Catania per evitare la retrocessione in Serie B. Il questore ha utilizzato i poteri concessi dalla legge speciale sulla sicurezza negli stadi in un modo fino ad ora poco impiegato. Intanto la resa dei conti è sempre più vicina e atteso per oggi il verdetto di primo grado della giustizia sportiva. Il Tribunale federale nazionale esaminerà il procedimento che riguarda la società siciliana e i tesserati Antonino Pulvirenti, Pablo Cosentino, Piero Di Luzio titolare di un contratto con il Genoa con riferimento al quale all'epoca dei fatti ha percepito il relativo compenso pur essendo stato esonerato dal prestare attività in favore della medesima società come si legge nel documento e infine Fernando Antonio Arbotti, agente di calciatori fino al 31 marzo scorso. Per la società Etnea si parla di retrocessione in Lega Pro con penalizzazione e squalifica di almeno 5 anni all'ex presidente Nino Pulvirenti. Un accordo per la collaborazione dell'ex numero 1 Etneo con la squadra che in tal modo non finirebbe in Serie D. Mercoledì 12 agosto, riforma dell'acqua pubblica in Sicilia. Il presidente Crocetta si è detto soddisfatto dei nuovi equilibri ritrovati in aula tra governo ed assemblea. Con questa riforma commentato si verrà incontro finalmente alle esigenze dei cittadini. Garanzie di enti pubblici che possono gestire l'acqua, enti privati che devono attenersi, che avranno a mente terrificanti quando lo faranno addirittura dopo 4 giorni in intervenzione dei servizi che possono essere allatorati, 50 litri garantiti sempre ai cittadini per cui i contattori non potranno più essere tagliati e messi a zero in relazione. Si garantisce che quando l'acqua non è potabile il 50% si paga e ci sarà il controllo rigoroso di tutte le tariffe e di tutte le condizioni contrattuali che avevano le aziende private in Sicilia a partire da Sicilia Acqua e delle varie società dell'acqua per evitare che accada una situazione terrificante come quella del lato di Agrigento dove i cittadini ricevono la percentuale più bassa pro capite di acqua d'Italia in 100 litri a seconda a fronte di 200 litri di Milano e le tariffe sono tre volte tante come la del lato di Agrigento non potrà più accadere, cambia il nuovo corso questa legge doveva essere fatta prima avremmo evitato i privati che hanno depredato il popolo siciliano e allora cominciamo da capo vediamo di come costruire un modello che sia veramente vicino a quello dei cittadini. Emergenza rifiuti, il Premier Renzi vuole commissariare la Sicilia a dare l'annuncio il sottosegretario Faraone concessi 60 giorni poi scatta la procedura Il Governo nazionale con un intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri proposto dal Ministero dell'Ambiente ha attivato in materia di rifiuti la procedura di esercizio del potere sostitutivo sul Governo regionale siciliano ciò significa di fatto che il Governo diffida la regione siciliana a dirlo il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone che accusa troppi ritardi, grave situazioni igienico-sanitarie e debiti alle stelle non si può più stare a guardare il commissariamento del sistema rifiuti della regione arriva attraverso Facebook da cui Faraone spiega le tappe del provvedimento di diffida entro 30 giorni ridefinire la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali cioè Iato e il numero andrà ridotto da 18 a 5, isole comprese entro 120 giorni dalla nuova perimetrazione Iato andranno resi operativi in terzo luogo entro 60 giorni andrà adeguata la legislazione regionale in materia di gestione di rifiuti urbani in particolare andrà organizzato il servizio scelta la forma di gestione determinate le tariffe per i cittadini per quanto di competenza e i criteri di affidamento della gestione e relativo controllo infine entro 60 giorni andrà approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti se la regione Sicilia non porterà a termine quanto stabilito nella diffida continua Faraone il governo nominerà un commissario per sbloccare questa situazione immediata da risposta di Crocetta Faraone forse fa il messo notificatore del governo ha detto il governatore perché non chiamava l'assessore ai rifiuti invece di fare un comunicato stampa su una decisione che non gli appartiene non occorre che Renzi né Faraone ci dicano cosa fare sui rifiuti Il movimento dei coraggiosi dell'ormai ex deputato PD Fabrizio Ferrandelli si sta fermando sempre di più in Sicilia tante le iniziative in programma Un atto di querenza nei confronti dei siciliani perché credo che sia arrivato il momento dei fatti e non quello delle parole io da un anno e mezzo criticavo il governo regionale ho posto una serie di atti che ponevano proprio il tema della conclusione anticipata della legislatura ho visto che è prevalso fra i miei colleghi e fra i sostenitori della maggioranza ma anche dalle opposizioni il Bosti che è il tema del mantenimento della poltrona io faccio politica per interesse collettivo non per 9.000 euro al mese per cui ho deciso di interrompere questa legislatura dando le mie dimissioni ma quello non è stato un passo indietro è un passo avanti stiamo radicando il movimento dei coraggiosi in giro per la Sicilia stiamo aprendo decine di comitati ne abbiamo ormai tutti nelle nuove province anche in diversi comuni per cui tutto il mese di agosto sarà incentrato proprio all'apertura dei comitati dei coraggiosi in giro per la Sicilia e poi inizieremo con un tour dove renderemo noto a tutti i siciliani le idee elaborate all'interno dei comitati scientifici dei coraggiosi e chiederemo ai siciliani di cambiare passo e di costruire il futuro della Sicilia insieme Ecco, nello specifico questi coraggiosi cosa intendono fare? Sono coraggiosi perché non si pongono il problema del futuro ma l'affrontano guardando in faccia la realtà ci vuole coraggio a restare in Sicilia ci vuole coraggio a fare impresa ci vuole coraggio persino a crescere i propri figli qui e siccome non possiamo delegare una classe politica che negli ultimi 15 anni ha dimostrato di aver fallito e che purtroppo occupa le poltrone all'interno del Parlamento è arrivato il momento in cui in prima persona si scenda per strada e si costruiscono i presupposti per il proprio futuro Ad Altavilla Milice il sindaco Nino Parisi in poco più di due settimane ha ripristinato il decoro del territorio urbano ed extraurbano L'amministrazione comunale di Altavilla Milice guidata dal sindaco Nino Parisi dopo soli pochi giorni dal suo reinsediamento è riuscita già a mantenere il primo impegno programmatico che aveva preso con la cittadinanza In poco più di due settimane infatti è stato ripristinato il decoro del territorio urbano ed extraurbano con interventi immediati e decisi eliminando tutto il degrado degli ultimi mesi Gli interventi sono stati eseguiti a largo raggio dalla pulizia delle spiagge alla putatura del verde pubblico alla pulizia del territorio e allo scerbamento delle tante erbacce esistenti nelle strade del centro urbano e delle arterie principali della zona extraurbana fino alla rimozione di buona parte delle tante discariche abusive a cielo aperto create da gente incivile che mortifica il territorio in maniera sconsiderata tra l'altro sanzionabili penalmente di deposito di ogni genere di rifiuti lunghi margini delle strade esterne Adesso il compito più arduo che ci attende per i prossimi mesi ha sottolineato il sindaco Parisi è quello di riuscire a ridurre la spesa per la gestione dei servizi assicurandone comunque la massima efficienza al fine di diminuire l'entità del costo dei tributi locali che sono stati aumentati in maniera esponenziale nel corso della gestione commissariale In un momento di grave crisi economica come quella che stiamo attraversando conclude appare disumano fare ricadere sui contribuenti gli sprechi della pubblica amministrazione Giovedì 13 agosto mafia confisca milionaria della Guardia di Finanza di Catania a sette componenti delle famiglie Bosco e Contro imputati per i reati di associazione a delinquere usura e distorsione I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sottoposto a confisca beni per circa 15 milioni di euro illecitamente accumulati da sette componenti delle famiglie mafiose Bosco e Contro allo Stato imputate per i reati di associazione a delinquere usura e distorsione L'operazione costituisce la naturale prosecuzione delle indagini che avevano portato nel mese di febbraio dello scorso anno all'arresto degli stessi soggetti risultati peraltro contigui alle famiglie mafiose Catanese, Laudani e Santa Paola è stato accertato che a fronte degli esigui redditi dichiarati al fisco negli ultimi dieci anni i componenti delle famiglie Bosco e Contro sono riusciti ad accumulare 31 immobili 11 tra autovetture, moto e scooter nonché 6 società per un valore complessivo pari a 15 milioni di euro tra i beni intestati alle società confiscate spiccano i due punti vendita della nota catena di supermercati dei fratelli Bosco di via Umberto e via Orto dei Limoni quest'ultimo centro nevralgico delle attività usuraie e ancora il bar gastronomia di via Oliveto Scammac e la rosticceria gastronomia di piazza Bramolin con di Catania sempre con insegna Bosco nel patrimonio rientrano anche due scuderie hippiche con 22 cavalli da corsa a suo tempo acquistati per oltre 700 mila euro emergenza rifiuti e ipotesi commissariamento della Sicilia sulla questione interviene Lega Ambiente Sicilia chissà che la minaccia di Renzi non possa sortire un effetto positivo in Sicilia si alza un coro di voci unanime di dissenso all'ipotesi di realizzare 12 nuovi inceneritori in 10 regioni il progetto sarebbe contenuto nel decreto sblocca Italia la cui bozza è stata inviata alle regioni il 29 luglio sulla questione interviene anche Lega Ambiente Sicilia che commenta l'ipotesi di commissariamento della Sicilia paventata dal governo nazionale a pensare male afferma Mimmo Fontana presidente regionale di Lega Ambiente Sicilia la questione potrebbe avere ragioni molto discutibili infatti sovrapponendo a questa notizia la bozza di decreto spedita alle regioni con la quale si prevede di sostenere la realizzazione di altri 12 inceneritori di cui due appunto in Sicilia appare quanto meno probabile la volontà di togliere la partita dalle mani di un governo regionale considerato inconcludente un governo, aggiunge Fontana che oggettivamente sugli inceneritori ha cambiato idea almeno 4 volte e oggi si dichiara contrario il mondo ambientalista da sempre contrario a ogni dichiarazione di emergenza se questa fosse la posizione definitiva del governo regionale la supporterebbe con grande decisione e non per un pregiudizio ideologico nei confronti dell'incenerimento ma per la semplice ragione che ormai nel 2015 il riciclaggio di materie è diventato una realtà in gran parte d'Europa e buona parte degli inceneritori sta andando in crisi per mancanza di rifiuti infine Fontana sottolinea il fallimento del governo Crocetta nella gestione dei rifiuti se non vuole essere commissariato sostiene prenda atto d'avere sbagliato tutto fino a questo momento a 19 la trazzera col pedaggio un euro per pagare i lavori l'iniziativa del comitato cittadino di Caltavuturo un euro per percorrere la via dell'onestà più nota come la trazzera dei 5 stelle realizzata per collegare l'autostrada 19 Palermo-Catania dopo il cedimento del viadotto Timera l'iniziativa non è dei 5 stelle non serve a pagare le quote che gli stessi deputati grillini si sono impegnati a corrispondere si tratta di un'iniziativa del comitato civico di Caltavuturo e serve a coprire il costo di una variante al progetto originale che sta proprio dal comune costata 60.000 euro in più rispetto all'iniziale progetto da 300.000 euro è un contributo volontario dice il sindaco di Caltavuturo Domenico Giannopolo siamo riusciti a raccogliere 22.000 euro attraverso donazioni ma ne mancano 38.000 chi raccoglie i contributi è identificato da una pettorina nella scritta Comitato Cittadino i deputati 5 stelle non hanno gradito l'iniziativa e si dicono pronti a versare anche la parte mancante della somma per evitare le richieste di denaro ai cittadini sia pure su base volontaria abbiamo siliato un verbale sottolinea Giancarlo Cancelleri nel quale ci impegneremo a versare anche la somma mancante alla fine il movimento contribuirà alla realizzazione della strada con 330.000 euro quasi l'intera somma l'emergenza finanziaria dei comuni si sta aggravando e molte amministrazioni per la mancanza di liquidità non sono nelle condizioni di assicurare i servizi essenziali ai cittadini lanciare l'allarme Leoluc Orlando presidente di Anci Sicilia i comuni siciliani rischiano il collasso a causa del mancato trasferimento delle risorse regionali e non saranno quasi certamente malgrado la proroga al 30 settembre in grado di fare i bilanci di previsione a causa della totale mancanza di dati certi in merito ai criteri di riparto a lanciare l'allarme che riguarda la maggior parte dei comuni dell'isola Elio Luca Orlando sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia allo stato attuale infatti 390 comuni siciliani non hanno ancora ricevuto un euro né dal fondo ordinario né da quello capitale le prospettive non lasciano presagire novità positive ribadiamo da mesi nei nostri documenti e nelle nostre assemblee spiega Orlando che lo stato di calamità istituzionale in cui si trova la regione siciliana sta mettendo fortemente a rischio l'esistenza in vita dei nostri comuni e che gli amministratori siciliani rischiano tutti i giorni la propria incolumità personale a causa delle ripercussioni sociali che questa gravissima situazione finanziaria crea venerdì scorso si è svolto un incontro con l'assessore alle autonomie locali Giovanni Pistori e con l'assessore Baccei i due hanno assicurato che quanto prima si concretizzeranno provvedimenti in favore dei comuni e soprattutto a tutela delle fasce più disagiate della comunità come disabili bambini e anziani grazie per l'attenzione come sempre appuntamento alle prossime edizioni grazie per la visione